BELLA TUTTI RAGAZZI, SONO MATTBOY120 E BENTORNATI SU BATMAN ARKHAN ASILUM Siamo dove eravamo l'altra volta, penso che abbiamo appena salvato la dottoressa Young E qui c'è un trofeo dell'enitmista Bene, intanto ho scoperto che lo spazio si corre No, allora, dovevamo tornare ai medici nel sanatorio Quindi io qui c'è dentro un bacco di corda Oddio Dobbiamo tornare indietro, ma il problema è dov'è indietro Ok Per questo poi a sinistra Va bene Sto cercando di fare video più corti nei giochi come questo E lì Ah giusto, così si stordì, va bene Oddio Quanto adoro i giochi di BAPMAN Bene Tanto Com'era quello rapido Bene Andiamo avanti Menare gente C'era qualcuno, se non sbaglio No, c'è solo gente morta Così e poi a sinistra Qui Li hai trovati? Stanno bene? Sì, per ora sono sicuro Mi ha dato un mio cane fa casino Abbiamo un altro problema Ossia Devo tornare alla residenza Ho lasciato là tutti i miei appunti Non voglio rischiare che Joker ci metta sopra Joker per un cino Non è sicuro, dottoressa, l'isola ormai è zona di guerra Non ne verrà fuori salva È il lavoro di una vita Lei non ha l'autorità di L'accompagno io, Batman Se non altro adesso posso contraccambiare Non mi piace neanche un po' Ti ha chiamato l'ascensore Noi no Sta salendo dai piani inferiori Oh my god E' sprendi dal dottore Sayang Recuperate gli appunti E cercatevi un posto sicuro dove stare Tutti gli altri vadano in sala di osservazione Barricatevi dentro It's time for Batman fighting Lo problemi in Sk-Est Che hanno i fucili Questo non mi piace Perché Noi non siamo preparati Sì Vedo l'ora di uscire In questo posto Mi fa acapponare la pelle E' la tua ora Eccolo là Potrebbe essere ovunque E' decollato Mio dio Bene Il problema è che da lì ci beccano Quindi dobbiamo trovare un modo Per fare Un modo più Stealth Ok ragazzi Questo pezzo ve lo risparmio Vieni qui Dai 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 Vuoi far vedere una mossa fighissima E che cavolo Forse ho capito una cosa O poi no Poi lo devo fare così Ecco qua Pum Che cosa fai? Oh! Peno uno Dai Fatteli scendere Per favore Pum Tagliamo Forse ne prendiamo un altro Meno due Adesso basta fare così Ma sei anche cretino che non mi vede Che faccio così Non so io cosa dirvi Non mi vede se gli scendo in faccia Bene E mo' Tagliamo Uh potenziamento E mo' Beccino Ok ragazzi Adesso dobbiamo andare qui Io adesso vi salterò Io adesso vi salterò dei pezzi Per prendere più veloci Pessi moci Li taglierò Troppo facile Pensaci Ti ho intrappolato In una scatola O forse no Sei sospeso su quella Che potrebbe essere Una caduta mortale E se volassi Fredi d'emergenza E ti lasciassi cadere Come un sacco Dammi la buonanotte Batman Non è deficiente Tutto bene Oddio Questo pezzo Me lo ricordo Gas Oh mio Dio Oh mio Dio Perchè dov'è dire Perchè dov'è dire Perchè dov'è dire Perchè dov'è dire Per malmare Questo schifo di città Di non trovare Come salto in tempo Che schifo Oh mio Dio Questo sarebbe Una cosa Orribile Corridore inferiore Cos'è sto posto Prego aiutami Batman Gordon Questo episodio Potrebbe venire Leggermente Lunghetto Ma Questa è una parte Sostanziosa Del gameplay Ma da dove cavolo Devo entrare Ok l'ho trovato Il posto Mi ha quanto mi piace Sto gioco In alta definizione Gordon È là in fondo È là in fondo Ti salvo Ti salvo Ti salvo Ti salvo No È morto Mi spiace Gim Io sto pezzo l'ho già visto Ti ho già giocato A questo pezzettino Barbara Mi Dispiace Sono arrivato Troppo tardi Dispiace Barbara La parte fa anche Un tantino Scalo Sentite Non dovresti essere Non dovresti essere C'è la gente Che ci urla Dio Oddio Ecco perché non gioco Giochi oro Papà Avresti dovuto Opporre la resistenza Poi qui C'è la madre Mamma Aiuto Bruce Non lasciarci morire Siete di fronti Uh ma chi c'è qui Ciao Il bel pupazzo Di pezza Ma si Che bello Proprio dove eravamo Prima Preciso Sputato Guarda Bazzagnale Questo è lo spaventapassari Che usa un gas Per farci Vedere le nostre Peggiori paure O qualcosa del genere Vi ricordate Il nostro caro amichetto Singe L'omino Dell'autan Di lol Ecco Potrebbe benissimo Essere due persone In questo gioco Cure Cure Vai O Aio Se ci vede Siamo fritti Non puoi più Succesi Morirai qui Fiam Io ho paura Ho scherzato Questo è un brutto posto Ti ho detto, Fauto maledaro, si. Ah, ah, ah... Cos'hai da l'idea? Che cosa stai cercando in qua? Sì, sì, continua a cercare lì, sono proprio là, guarda. Che cosa sta succedendo? Oracle, sta bene Che cosa è successo? Ho perso il contatto Sicuro di sta... Sì, bene Ho avuto un bra... Bene Ci fermiamo qui ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Spero che non sia venuto troppo corto invece Ma chi se ne frega Non è mai troppo corto per voi, giusto? Che figo Spero che il video vi sia piaciuto Commentate, iscrivetevi Mettete mi piace, condividete Ciao a tutti E al prossimo video